Siamo tutti insieme siamo invincibili Vai Vail 5 secondi la mia ulti Vai tutti con la Sapphire Brucia Io mi lancerò la Sapphire Abbiamo preso Come non hai la... scusa La sto facendo Vai Vai come sto Ma non la prendiamo La prendiamo la prendiamo Mi ha interrotto la ultima Mi ha interrotto La prendiamo Ora si Ottimo Dietro c'è Vain Capate Ci scopano E' finita Siamo morti E' la fine Salvasi Galio C'è il flash C'è davvero dietro al culo Gli altri Guardali Guardali Sono un flash E' stata una bellissima esperienza Sei morto Corri Sì Devi utare per uccidermi dai oltre uccidimi Puttana Non può ultare Sono io Sono io Non so come ho fatto Come ho fatto? 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 Nice follow up Non hai detto troppo tarde forse No? Vai Vain La ultimate la tengo solo per lei Tanto ormai L'ho salvato il culo Braum Che sta facendo? Grande Braum I taunt I sapphire I taunt Velocità Velocità Mi ho fatto la ultimate No ecco Sunfire Bruciate noi Sunfire Io manco L'ho attaccato Vai Vai Vabbè Basta Vai Vado e Sto andando Vai Sto andando Vado io Oddio Oltre i Oltre i Oi Oltre i Oltre i Oltre i Oltre i Oh Vai 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 ci Oh 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 Non posso non pagare Oh no via 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 No se no facevo flash ultimate Flash ultimate Flash ultimate Oh 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 Ma io stesso Dai andiamo su questo tizio Che viene da sound Scapate Via Scam Non Ho l'ha portato verso il porta che se ne frega nel forno bard ok qualcuno in teglia da me cazzo basta in seguirmi ignoriamo i nemici bussia ma i minioni zizi la porta ma dove lo mettiamo faccia fate tutti i promoti adesso però votati tutti non si ha sport al mettiamo lì qua ma per un promoti vado aspetta lo faccio su un ufficio ora che abbiamo piazzato tutto possiamo ingaggiare il mio personaggio si è incastrato sono preso una rassata sullo scudo per dirmi ha finito la vita dallo scudo prendi il portal perché non mi prendi il portale ecco una partita di minion è bella bella ma non la rifarei grazie a tutti